Le voci circolavano da qualche tempo ma da oggi è ufficiale. Due consiglieri regionali di Forza Italia sono ormai passati nelle file della Lega. Due nomi non certo di secondo piano perché si tratta del presidente della Commissione Speciale per le Autonomie Mauro Piazza Lecchese e addirittura del presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi Comasco. Un po' come dire il lago di Como diventa sempre più leghista. Per carità scelte di carattere personale che dovrebbero essere però fatte sulla base non tanto di convenienze quanto di valori. Almeno questo dovrebbe essere quanto scritto nelle sacre tavole dell'etica della politica. Ma non si parla tanto di etica naturalmente in questo caso. Allora proviamo a capire da cosa può essere determinato questo passaggio. Ciascuno, ribadisco, è libero di fare le scelte che crede e che lo mettono più a suo agio. Ma Forza Italia è un partito confuso, in Forza Italia c'è confusione. Questo hanno detto oggi soprattutto il presidente del Consiglio Fermi. Vero, ma nella Lega c'è forse meno confusione, mi chiedo io. Ma ciascuno fa, ribadisco, le sue valutazioni. E poi, altra ipotesi potrebbe essere. La Forza Italia è troppo appiattita sulle scelte del governo Draghi, da punto di vista economico, ma soprattutto della pandemia? Ma la domanda a questo punto è, e la Lega dov'è se non nel governo? E poi, Forza Italia perde posti e consensi? Beh, questa forse è la lettura più corretta, perché se perde voti e perde posti probabilmente c'è meno probabilità di poter essere confermati in future elezioni, magari quelle regionali del 2023. Ma mi chiedo poi, perché proprio adesso questi passaggi? Credo che la chiave di questa risposta sia nella situazione che sta vivendo non tanto la Lega quanto Salvini. Salvini, secondo me, deve far vedere di essere in grado ancora di espandere il suo consenso. E visto che non riesce a farlo con i voti, perché quelli li sta oggettivamente perdendo, almeno a giudicare dalla crescita dei Fratelli d'Italia e dai sondaggi che mettono un po' in difficoltà Salvini ed anche i malumori interni, beh, allora cosa fa? Se non può prendere i voti, può prendere almeno gli eletti. Quindi, se scappano gli elettori, si prendono gli eletti. E poi, scusate, un'ultima battuta. Non me ne vogliano i consiglieri Fermi e Piazza. Li voglio vedere nei panni di esponenti leghisti di lotta e di governo. Nel governo li ho visti bene, e devo dire che hanno sempre avuto un grande aplomb. Sulla lotta sarò curioso di vedere come si trasformeranno nelle prossime settimane. In bocca al lupo, comunque, ribadisco scelte personali e ciascuno poi le motiva con se stesso e con i suoi elettori.